Piero Luigi Pardo e Stefano Nava sono pronti, siamo pronti per raccontarvi la sfida che sta per cominciare, speriamo siano 90 minuti divertenti. Davvero Piero? Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa, diamo un po' di numeri Stefano nello specifico, quelli con cui... Michele D'Arianna, c'è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Ci sono metri a disposizione. Occhio a questo rancio. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti da pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per scontare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Drakewater si è inserito bene nei meccanismi della squadra, i compagni lo cercano spesso, segno di fiducia nei suoi confronti. E' evidente che si sia creato un legame particolare in campo e questo non può che far bene a lui e al resto della squadra. Occhio al pallone filtrati. Attenzione per il gol. Che gol meraviglioso questo ragazzi. Che gol meraviglioso ragazzi. Non ho sbagliato. Ho invocato Grady in una maniera straordinaria. Era un rigore in movimento e non ha sbagliato. Aveva lo specchio della porta completamente spalancato. Che potrebbe essere un giocatore mai buono. Che sono di Grey. Andoradoppiato. Adesso sono avanti da zero. E' bene così. Recupere il pallone con un intervento facile. Morata. Buona idea qui. Attenzione a Morata. E' trageva. Attenzione. Ecco il gol. Sclismo. Sclismo. La giocata smarca. Poi non poteva farlo. Fantastica partita. Partita già chiusa ragazzi. Con questa rete aumentano ulteriormente. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Passa questo pallone. Occhio al suo movimento. Ai 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 ai. Attenzione occasione. Il gol riduce lo svantaggio ma non cambia la sostanza del match. C'è ancora una montagna da scalare. Da qualche parte devono pur cominciare. Anche se sono d'accordo con te Pier. L'obiettivo rimonta. Seppanora lontanissimo. Avevo visto il buco e avevo visto che c'era la possibilità del loro gol. Infatti è arrivato. Sono stati spietati anche loro la prima tesina. Ma ragazzi abbiamo un montaggio di due gol. Non sprechiamo. Ho visto che c'era un pericolo. Forza ragazzi. Non è successo assolutamente nulla. Punta l'area. Mkhitaryan. Può andare al grosso. Mkhitaryan. Ecco lì. Rete. Splendida Rete. Subito 4-1. Il raso terra che finisce il re del portiere non ci arriva. Sinceramente non mi aspettavo la palla di un match. Comunque. Andiamo a rivedere. Vi faccio vedere una cosa. E vediamo il gol che aumenta ulteriormente il margine di sicurezza. Non mi aspettavo la palla di un match. E ho aspettato praticamente che Mkhitaryan guardasse il pallone e poi mi sono stato io stesso a muovere il giocatore nella direzione perché lui avrebbe fatto questa altra cosa. E poi sono stato io a decidere perché volevo passarla. Quindi invece ho cambiato l'idea l'ultimo. Ho tirato. L'ho fatto bene insomma. Continuano a regalare grande calcio. Cose un po' complesse da spiegare. Ma ragazzi. Solo esperienza diciamo così. Io cerco di spiegarlo meglio. Quello che faccio. Non è facile. Ragazzi. Avete parole? Avete visto? E' riuscito a tenere il pallone basso. L'aspedito in fondo alla rete. Non va a fare per il portiere. Facile rete. Ma sempre una bella rete. Grande conclusione alla vicina. 1-2. E con questo porta il suo bottino personale a due gol oggi. Fantastico. La passione perfetta. E' una gara a senso unico questa ormai. Ottima la chiusura. Fermazione. Riquetto. Ottsheitz. Riconquista palla. Intercettando la traiettoria del passaggio. Occhio cerca l'area di rigore. L'apertura profonda su Marcial. Marcial. Attenzione. Sì, un po' fortuna Ma sfruttiamo anche la fortuna Comunque bella azione anche questa Potrà portarsi a casa il pallone della gara dopo questa splendida tripletta Di testa per il compagno Occhio a Bertrand Vuole il controllo nonostante il pressing Occasione Bello E il pallone finisce il gol Golascio al volo Una magnifica marcatura data a una splendida rete di passaggi Ancora Morata Non mi chiteriamo Che è entrato da poco Pallone che si è inzaccato E il portiere non ha potuto nulla Non poteva sciupare questo grosso Il pallone in volo Nel set E' buonato Guardate che bello Comunque per fare tutti i gol bisogna più di avere che il chiusura Con determinazione realizzando la palla arriva Sì la difesa non ha fatto in tempo a reagire Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio Non è la prima volta che li faccio Spesso i pronostici nel calcio sono fatti per essere smentiti Soprattutto quando c'è una distanza E' sempre un gatto fuori La palla che termina lontanissima Dalla porta difesa dal portiere Un massacro morto 7 a 1 Una bella vittoria Meritata Sperranno le determinazioni di ragazzi Avanti così Spoltano 17 punti adesso E adesso puntiamo veramente Bisogna Crederci Fin in fondo Verso la divisione Che è la 2 Mai arrivata nella storia Salvezza raggiunta in queste partite Adesso bisogna vincere Altre Due partite Ne mancano 3 2 su 3 Vanno vinte Altrimenti Non riusciremo nell'obiettivo Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao